Ciao a tutti amici di Spinitv, io sono Luca Ruggeri e siamo qui nella mia barca per presentare una nuova applicazione fighissima chiamata Laya, disponibile su tutte le riviste come Pesca Spinning, Pesca dalla Barca, Softcasting, distribuite da Aereo di Grasso. In questo caso abbiamo Pesca dalla Barca e come potete vedere ci sono io in copertina con una palamita e dove troviamo il logo Laya, grazie all'applicazione scaricabile gratuitamente sul nostro smartphone potremo vedere le nostre immagini e prendere vita. Ora vado a mostrarvelo, vado a prendere l'applicazione Laya su uno smartphone, poso la rivista, basta avviare lo scan, puntare il nostro schermo sulla rivista ed ecco che la rivista prende vita. E' tuo, è tuo, sii, sii cavolo, che pezzo, che pezzo, che pezzo, mamma mia, mamma mia che pezzo, grazie mille, mamma mia che spettacolo, grazie per l'arrivo, mi ha dato questa opportunità. La gente da base, qui c'è il signor Tornestieri, grazie, faccio un lancio, mi lascio vedere vai 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 vai, ok, ecco che avete visto come le foto possono prendere vita e mi raccomando ci vediamo al prossimo video su Squini TV, ciao ragazzi!